Eccoci nel bosco perché c'è questo fungo che si chiama Amanita muscaria. È bello! Prendiamolo. Il gambo. Ha un anello. Stiamo conoscendo questo fungo. Sediamoci un po' qua per trovare i funghi, per trovare i funghi, per conoscere i funghi. E le lamelle, se proviamo le lamelle, e il cappello con tutte le verruche bianche. E adesso prendiamolo qua. Le lamelle hanno questo. Se proviamo a tagliare il centro delle lamelle qua, si forma tutto in giallo. Come potete vedere. Lo rimetto come stava prima, la Amanita muscaria. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao a conoscere i funghi. Ciao!